Trasformare il centro storico di uno dei più caratteristici comuni della provincia di Roma in un'esposizione temporanea di opere d'arte presipiali. Ci troviamo a Monteporzio Catone per la quindicesima mostra internazionale dei presepi e dei diorami. Fino al 6 gennaio 2013 i visitatori potranno ammirare la più grande mostra di presepi e diorami della provincia di Roma immergendosi nell'atmosfera particolare e suggestiva dei vicoli del piccolo borgo. Come ogni anno verrà allestito in Duomo il famoso presepe scenografico ed il presepe vivente per le vie del centro storico. La mostra da sempre è allestita dal gruppo Amici del Presepe e dalla confraternita del Santissimo Sacramento con il patrocinio ed il contributo della provincia di Roma e della città di Monteporzio Catone. Grazie per la visione!